A Gardone Riviera, il forum rotariano, sono presenti tre circoli rotari organizzati dal circolo di Salò e Desenzano. Abbiamo il presidente Federico Orlandi che ha riunito diversi personaggi, si è parlato di turismo, si è parlato di expo. Questo avvenimento è molto importante e si ripete da tempo. È un evento che accade da più di vent'anni, organizzato a turno dai club di Riva del Garda, dal Salò e Desenzano e dal peschiera del Garda Veronese su temi che caratterizzano il Garda e il suo territorio, partendo sempre da presupposti di difficoltà amministrativa e di gestione delle situazioni che caratterizzano il lago, dato dal fatto che, come sapete bene, il lago presenta tre province che fanno parte di tre regioni diverse, n comuni e quindi qualsiasi cosa che caratterizza il territorio del lago diventa sempre e comunque un problema. Riuscite a riunirvi da vent'anni e quindi avete dimostrato che un Garda Unito ci può essere come adesso Garda Unico sta cercando di fare. Insieme vi avvicinate a questo Expo 2015 dove Rotary avrà una presenza importante. Sì, infatti il Rotary International avrà un padiglione importante fra quello statunitense e quello russo, quindi in una posizione assolutamente centrale, organizzata a Rotary International. Per quanto riguarda i club che caratterizzano il lago, che peraltro fanno parte di tre distretti Rotary divisi, per cui anche dal punto di vista rotariano siamo divisi dall'aspetto distrettuale. Abbiamo comunque la possibilità di poter provare a capire quali possano essere i ritorni dell'organizzazione, quantomeno per il recepimento e l'offerta turistica, che hanno organizzato i vari consorzi turistici e albergatori in genere. È evidente che già il traguardo di avere un marchio unico, un brand come quello che hanno individuato, che poi sia caratterizzato da nomi diversi, consorzio Garda Unico che può a che vedere col brand che sicuramente Garda è molto più pregnante, significativo e conosciuto a livello internazionale, però è una partenza. Poi se si riuscirà a integrare le 25 o 30 milioni di presenze che già caratterizzano il lago da maggio a settembre, con le altrettanto, si spera o sperano gli addetti per le presenze di Expo, sarà sicuramente un risultato per il lago. Bene, allora turismo e Rotary insieme per questa Expo 2015 e speriamo bene. Speriamo. Tre circoli Rotary per parlare di Expo 2015. Abbiamo con noi Michele Salvoni-Ghibellman che è il responsabile, direttore del responsabile per Expo 2015 del distretto 2050. In cosa consiste questa grande responsabilità? Consiste nel cercare di coordinare l'attività di tutti i club del distretto 2050, che sono 65 e che copre il territorio di buona parte della Lombardia con le province di Brescia, Cremona, Mantua, Lodi, Piacenza e una parte di quella di Milano, per cercare di far conoscere il nostro territorio anche a chi viene da molto lontano, come molti dei visitatori saranno. Expo è una grande vetrina, è una grande occasione. Possiamo anche cercare di far conoscere tutti i territori limitrofi. Tra l'altro il Lago di Garda, per il quale è stata incentrata questa relazione, si trova proprio sulla bisettrice che da Milano va a Venezia, quindi sicuramente molto appetibile per tutti quelli che sono i turisti, soprattutto del Far East, quindi giapponesi, cinesi in primis. L'occasione sussiste, starà a noi riuscire a valorizzare quello che sono le bellezze che abbiamo. Purtroppo la grossa difficoltà che in Italia abbiamo sempre avuto è quella di rilanciarci o di lanciare le nostre iniziative. Da noi purtroppo ogni realtà campanilisticamente cerca di spingere soltanto quelle che sono le sue peculiarità. E' questo che dobbiamo cercare di superare ed è il motivo per cui siamo riusciti a unire in questo incontro non solo tre club, ma tre club che rappresentano tre province e tre regioni diverse che si affacciano tutte sul lago. Per Expo 2015 incontriamo anche Marco Benedetti, in cui ha il rappresentante del Trentino per la PT e per Garda Unico Trentino. E' un'importante unione questa dei tre consorzi e degli intenti che si stanno concretizzando. Che cosa c'è di nuovo e come si va verso Expo 2015? Intanto ringraziamo i Rotary che ci ha un po' sollecitato su questa materia, materia che comunque in questi ultimi anni direi si è consolidata. Il fatto di avere già un marchio unico utilizzato su tutte le tre sponde è stato sicuramente il risultato migliore che oggi siamo riusciti ad ottenere. Però si continua a lavorare, adesso dobbiamo lavorare sui prodotti e lavorare sui prodotti sul Garda vuol dire lavorare molto perché i prodotti e l'offerta turistica e le motivazioni di vacanza di attrattiva del Garda sono realmente molti. Quindi adesso sta a noi coinvolgere maggiormente gli operatori, coinvolgere maggiormente anche l'entroterra perché abbiamo l'indispensabilità di avere con noi anche tutti quelli che sono le produzioni e no gastronomico. E la 2015 con la presentazione all'Expo, speriamo anche con l'aiuto di Rotary, ci aiuterà a partire realmente con una promozione unitaria. Bene, allora ci vediamo a Expo 2015. Benissimo, grazie a voi. Progetti turistici del Garda in vista dell'esposizione universale. Ai rotariani tutti insieme gli rotariani del Garda e qui anche Paolo Artelio, il presidente di Garda Unico, mi sembra perfetto. Che cosa propone Garda Unico per Expo 2015 e come si collaborerà con i rotariani che mi dicono hanno preso uno stand meraviglioso per Expo 2015? Quindi prima di iniziare un ringraziamento ai presidenti del Rotary perché ovviamente ci hanno dato un'opportunità di parlare di quello che il consorzio Garda Unico sta facendo per la promozione dell'Expo 2015, quindi la promozione nostra del Lago di Garda. E secondo, cosa possono fare i rotariani? I rotariani possono fare tantissimo. È stato molto brillante il governatore che ci ha dato un'idea spettacolare, quella che noi procureremo ovviamente dei filmati del Lago di Garda che il governatore poi darà quando faranno questa riunione di tutti i governatori del mondo del Rotary e quindi questo secondo me è uno strumento eccezionale per poter far ammirare ed apprezzare le nostre bellezze del Lago di Garda. Poi ovviamente questo è quello che può fare il Rotary, poi quello che ovviamente ci siamo portati avanti noi come Garda Unico, come dicevo, tutte le fiere che abbiamo fatto quest'anno abbiamo ovviamente portato fuori oltre che il nostro brand unico che per me diventa sempre più importante ed è sempre più conosciuto. Abbiamo fatto capire, speriamo di aver fatto capire alla gente che abbiamo incontrato nelle fiere che il Lago di Garda è il punto diciamo focale per poter andare a visitare anche l'Expo perché ovviamente siamo veramente a 150 chilometri da Milano, possiamo fare con le corriere, possiamo fare con i treni e gli diamo tutte le opportunità per poter arrivare in tempi velocissimi sul lago e godersi invece le bellezze nostre del Lago di Garda. Ma c'è un accordo anche con gli aeroporti? Abbiamo fatto anche due accordi con gli aeroporti, uno con gli aeroporti di Verona che hanno aumentato ovviamente le loro linee aeree per poter usufruire molto di più dell'aeroporto, noi abbiamo branderizzato tutto l'aeroporto di Verona agli arrivi con tutte le bellezze del Lago di Garda quindi con delle immagini bellissime e con il nostro logo e adesso vedremo di andare ovviamente lì sarà più difficile ma riuscire a branderizzare un qualcosa non come l'abbiamo fatto con l'aeroporto di Verona ma anche gli aeroporti di Milano e quelli di Venezia. Una presenza importante di Garda Unico? Di Garda Unico sì perché abbiamo capito come anche oggi tutti ne hanno parlato che ovviamente è l'unione che fa noi dobbiamo pensare che siamo tra virgolette anche se non c'è nella Garda ma siamo una regione unica del Garda e quindi tutta la promozione deve essere gestita e ovviamente coordinata dal Garda Unico, primo per non in un momento anche di spendere più di non buttare soldi o fare delle cose che possono essere fare dei doppioni, avere una strategia unica del Lago unita con il Garda Unico e tutte ovviamente le aziende pubbliche delle tre regioni. Grazie per la visione! Grazie a tutti!